Il nostro avvocato Il nostro avvocato Perché altrimenti Non possiamo assolutamente Proseguire nella presentazione del video Allora noi siamo un gruppo Di ragazzi Che realizziamo una rubrica Radiofonica All'interno di un programma Che si chiama Espresso forte con Katia Lanz Ed è in onda su Radio Trenespresso Tutti i giorni Il programma si La nostra rubrica invece è Il lunedì, il mercoledì e il venerdì Dalle 8.30 alle 10 del mattino E si chiama Postazione E si chiama Postazione Espressa In che senso? S'è praticamente l'unione Dei due Dei due programmi Postazione avanzata Che è il nostro magazine online Nonché anche il nostro Canale YouTube www.postazioneavanzata.com E poi Postazione avanzata Vi inseriamo direttamente Andrea Scaria Il link al nostro Travelore87 E poi Espressamenti Espressamenti Mettiamo un bel Un bell'uccichio Con iscriviti 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 Altrimenti avrai sette anni di sfiga Andiamo bene Proprio bene Comunque Noi mi invitiamo a vedere A linkare Quello che apparirà Qui sotto Che è il link Che vi porterà Al canale Dove troverete Tutti gli altri video Che faremo Tra i quali ci sarà Anche lo spot Completo Del canale Ci sarà Lo spot completo Che se volete Mi raccomando Ve lo chiediamo Per favore Non Subissateci Di dislike Non vi faccio Soprattutto non denunciateci Perché poi C'è il nostro avvocato C'è il nostro avvocato Un unboxing molto particolari Molto Molto particolari Vi diamo a vederlo Non ci saranno Telefonini Niente elettronica Niente riviste Niente a riviste Niente A riviste però Niente Eh sì E anche niente vestiti Vabbè Questo ora ci pensiamo Perché può essere Che poi ci spostiamo Su un altro canale Ancora Perché non possiamo Usare più youtube Ma useremo un altro youtube Comunque Poi vediamo Grande Questo comunque Troveremo sempre il link Qua Troveremo il link Con il nostro canale Vabbè Nel caso dei vestiti Potrà parlare Esclusivamente Katia Perché Ok Ci penseremo Del make up Le unghie Del make up Vabbè 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 Si tinge tutta parla Si pina le unghie Tutta Così vabbè E compi Vabbè Comunque Vi invitiamo a cliccare il link Ciao Guardatevi la presentazione completa Ciao 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 Ciao